amici del software libero open source benvenuti o bentornati in questa cinquantaseesima puntata del podcast di marcos box come sta andando la vostra quarantena spero bene spero che non siate stati colpiti direttamente dal da questo maledetto virus del coronavirus che in questi questi ultimi mesi sta nietendo vittime ogni giorno di più nel nostro povero paese forse coraggio a tutti quanti ce la possiamo fare iniziamo questa nuova puntata parlando del rilascio della versione 3.36 di gnome nome in codice gresic questa nuova versione di gnome offre nuove importanti funzionalità ottriche consuete correzioni di bang porta anche alcuni nuovi con i nuovi programmi come ad esempio il nuovo nuovo programma extension estensioni a vita via la maniera che è una nuova applicazione che gestisce l'aggiornamento delle estensioni la configurazione delle stesse delle preferenze delle estensioni e la rimozione o disabilitazione quindi la trovate anche preinstallata su ubuntu 20.04 che è attualmente in sviluppo e quindi passerà tutto da lì non ci sarà più bisogno di utilizzare gnome tweak per poter andare a gestire le estensioni mi domando perché questa cosa non è stata pensata fin da subito perché comunque l'utilizzo delle estensioni è ampiamente diffuso su gnome perché non conosco quasi nessuno che utilizza gnome senza estensioni per andare a correggere quei piccoli problemi che ha gnome nudo e crudo va bene altra novità interessante che è stato aggiunto un pulsante non disturbare che si viene mostrato nel popover delle notifiche quando abilitato le notifiche vengono nascoste fino a quando il pulsante non viene disattivato torniamo poi una nuova gestione delle schermate di accesso e di sblocco che adesso offre animazioni migliori un design migliore adesso tutto più funzionale più facile da utilizzare e oltretutto è più elegante da vedere più semplice insomma per quanto riguarda il comparto della shell sono state fatte alcune modifiche ad esempio adesso le opzioni di spegnimento di sconnessione sono state riorganizzate c'è un'opzione di sospensione visibile che rende molto più semplice la sospensione del computer le finestre di dialogo di sistema che richiedono una password ora hanno un'opzione per mostrare il testo della password praticamente c'è il cocchietto che noi premendo ci viene mostrato la password che noi andiamo inserire quindi è molto utile per chi come me ha password lung e ogni volta deve stare lì e dire oh cacchio l'ho digitata bene ma così la potete vedere sono state poi riprogettate la maggior parte sono non tutte delle finestre di dialogo di sistema che adesso sono più coerenti più facili da leggere le cartelle di applicazioni nella panoramica delle applicazioni possono essere ora rinominate l'intera interfaccia è stata utilemente migliorata con particolare attenzione al popore del calendario o alla ricerca nelle panoramiche è stata anche data una sistemata delle impostazioni adesso le impostazioni di sistema le sezioni sono state riorganizzate rendendo il tutto più facile e veloce da navigare le sezioni sulla privacy adesso elencano le applicazioni a cui è stata concessa l'autorizzazione per accedere ai servizi di localizzazione videocamera microfono e quant'altro adesso l'accesso può essere revocato in base all'applicazione l'utente e le sezioni relative hanno servito anche in questo caso una riprogettazione dell'interfaccia sono più esplicite nella presentazione delle informazioni e facilitano la modifica delle impostazioni miglioramenti anche in gnome software che adesso rileva automaticamente le reti dati mobili quindi quando viene rilevata una rete dati mobili a consumo quindi se noi ci connettiamo tramite l'ottosport tramite il cellulare insomma gnome software sarà in grado di mettere in basso gli aggiornamenti per ridurre l'utilizzo dei dati quindi è sparannino l'assistente per la configurazione iniziale ha acquisito adesso la capacità di configurare l'utente iniziale con il controllo dei genitori quindi se avete pargo e volete aggiungere volete avere maggiore controllo quindi con il parente al contro potete farlo boxes adesso include un tutorial di benvenuto anche web che il browser web di gnome che continuo a non capire perché viene ancora sviluppato comunque offre adesso la possibilità di visualizzare carica i pdf direttamente dalla finestra del browser e l'interfaccia adesso un design responsivo che è più user friendly su schermi piccoli diciamo così non mancano poi le varie modifiche all'assistente della configurazione iniziale gnome music contatti orologi porale insomma è stata messa a mano un po un po tutto la stop romanto gnome 3.30 sim su ubuntu 20.04 vts quindi con alcune personalizzazioni che sono state fatte da il team di ubuntu e devo dire che i miglioramenti specie su in presenza di driver invidia si vedono con animazioni più fluide e quant'altro ottimo lavoro al team di gnome altro rilascio importante di queste ultime settimane è il rilascio della versione 74 di firefox la novità le novità principali di questa nuova versione la prima riguarda la gestione degli accessi che adesso è stata migliorata con la possibilità di invertire in ordinamento alfabetico gli accessi su lockways è stata migliorata e semplificata l'importazione dei segnalibili e della cronologia da microsoft edge quello nuovo basato su chromium i componenti aggiuntivi installati da applicazioni in terze parti possono essere rimossi utilizzando utilizzato direttamente la gestione delle componenti aggiuntivi di firefox e cosa molto importante in futuro soltanto gli utenti potranno installare componenti aggiuntivi e nessuna applicazione potrà installare questa è una cosa molto importante perché non so se vi ricordate il caso delle estensioni di avast e quant'altro bene adesso sarà possibile rimuovere direttamente dalla gestione dei componenti aggiuntivi in futuro programmi di terze parti su windows non potranno più mettere in mani e non potranno più installare le loro estensioni in automatico a me fa sempre piacere questa cosa ed è un problema che noto praticamente sui computer di diversi utenti che si ritrovano sommersi di estensioni di dubbia utilità che vengono appunto installate a loro volta in applicazioni di dubbia utilità che vanno a mettere ogni volta altra novità è facebook container che praticamente impedisce a facebook di rintracciarci su web accessi mi piace commenti facebook vengono automaticamente bloccati sui siti non di facebook quando abbiamo bisogno di un'eccezione possiamo comunque creare un'eccezione aggiungendo un sito personalizzato che vogliamo venga gestito firefox offre inoltre adesso una migliore privacy per le chiamate vocali e video attraverso il supporto per mdns e ice occultando l'indirizzo ip del nostro computer con un id casuale in alcuni scenari di web rtc altre poi modifiche che una salterà subito all'occhio per chi utilizza soluzioni di posta elettronica come quelli di alice e che è stato disabilitato tsl 1.0 e 1.1 questo per migliorare le connessioni internet i siti che non supportano tsl 1.2 mostreranno adesso una pagina di errore quindi è capitato negli scorsi giorni ma mi sembra che adesso è stato aggiornato che era impossibile logarsi con firefox 74 su alice che non forniva non forniva appunto il supporto a tsl 1.2 ma c'erano anche altri siti che mi erano stati segnalati che hanno smesso di funzionare per questo motivo e è stata una diciamo così una cosa fatta una forzatura fatta da mozilla e in ottica di sicurezza tutti quanti dovrebbero adeguarsi di conseguenza dal fronte di fedora è arrivata la beta di fedora 32 la novità principale di fedora 32 workstation di questa nuova beta di questa nuova beta è gli oom abilitato per impostazione predefinita che consente agli utenti di recuperare più rapidamente il controllo dei propri sistemi in situazioni di memorie insufficienti con un intenso utilizzo di dello swap fedora scusate 32 workstation beta abilita anche il timer fs trim per impostazione predefinita che serve a migliorare le prestazioni di rivelimento dell'usura per gli ssd non manca poi l'arrivo di gnome 3.26 di cui vi ho parlato poco fa e aggiornamenti come di consolido per i pacchetti più popolari come ruby python per il gnome computer collection e quant'altro se volete installare fedora 32 beta su marcos box trovate il link per poter scaricare la beta di questa nuova edizione restando a parlare di distribuzioni è arrivato il rilascio della versione stabile di linux mint debian edition 4 nome in codice debi che cos'è è una variante di linux mint che il team di linux mint porta avanti ormai da tempo basata su debian e non su ubuntu come l'edizione principale lo scopo di questa edizione di linux mint è quella di garantire la sopravvivenza di linux mint qualora un domani ubuntu dovesse scomparire per un qualsivoglia motivo viene portata viene sviluppata nella sola edizione con cinnamon per ovvi motivi diciamo così di forza lavoro qual è la novità di questa di questa nuova versione beh la prima cosa riguarda l'installer che adesso è stato rinnovato offre la possibilità del partizionamento automatizzato con supporto per il vm e criptografia sia dell'intero disco che della directory principale il supporto per l'installazione automatizzata dei driver invidia molto importanti il supporto è nel vm e il supporto per sego boot il supporto per i sottorumi btrfs una possibilità di installazione automatica dei pacchetti microcode miglioramenti per quanto riguarda la sessione in virtualbox tutti quanti miglioramenti che abbiamo avuto con linux mint 19.3 quindi con l'arrivo di cinema 4.4 di boot repair rapporti di sistema miglioramenti delle impostazioni della lingua dell'hdpi i nuovi minuti di avvio la presenza di celluloid come nuova applicazione per riproduzione video note drawing le icone di stato xapp insomma tutto quello che abbiamo visto sulla precedente versione principale di linux mint 19.3 poi abbiamo rimossi i repository pacchetti debbo multimedia e infine il tutto è basato su debian 10 buster con i repository backport abilitati è possibile fin da ora aggiornare da linux mint debian edition 3 a linux mint debian edition 4 su marcos box trovate l'indirizzo della guida con la guida ufficiale realizzata dal team di linux mint per fare l'upgrade in alternativa potete scaricare le nuove immagini al link che trovate sempre in descrizione passiamo adesso una notizia che ha fatto storcere in nasa ad alcuni di voi per il solito discorso della braccia estendi ed estingui github ha firmato un accordo per acquisire npm npm che cos'è? un gestore di pacchetti per il linguaggio di programmazione javascript l'obiettivo quello successivo di github è quello di investire nell'infrastruttura per garantire che npm sia sempre gratuito open source più veloce affidabile scalabile e quant'altro migliorare l'esperienza quotidiana degli sviluppatori e manutentori collaborare attivamente con la community javascript per ottenere nuove idee e definire il futuro di npm e guardando oltre gli sviluppatori lavoreranno anche per integrare github e npm tutti quanti i clienti paganti che utilizzano npm pro, teams ed enterprise per rossare i propri registi privati continueranno a ricevere support e dentro alla fine dell'anno ai clienti paganti di npm sarà offerta la possibilità di spostare i loro pacchetti npm privati su github packages quindi per riunire tutto sotto un unico tetto nei prossimi giorni il team di github lancerà un'arma su reddit con alcune persone del team di sviluppo per dialogare un po' con la community e spiegare meglio la decisione di questo accordo smart working è la parola più diffusa in questo momento perché tutti quanti stiamo la maggior parte di noi fortunati possono stare a casa a lavorare in remoto lavorare in remoto significa avere accesso anche al computer del proprio ufficio della propria azienda e quindi cercare una soluzione che ci consenta di avere accesso remoto per poter lavorare da casa in ottica di smart working un servizio che potrebbe essere utile a molti di voi è di w service di w service come lo volete chiamare che cos'è? è appunto una soluzione che consente di poter avere accesso a sistemi remoti quindi windows mac os linux ma anche soluzioni come raspberry pi pi 64 e quant'altro potendo avere accesso a questi computer soltanto tramite browser web quindi da qualsiasi parte del mondo noi ci troviamo con un semplice browser web ovviamente previa configurazione delle vari computer che noi dobbiamo andare a controllare è possibile gestirli su marcos box trovate maggiori informazioni su questo servizio che è gratuito e il client è completamente open source trovate tutte le informazioni su github e trovate una piccola panoramica dicevo la guida per l'installazione dei client su linux e un video che vi illustra il funzionamento di w service io l'ho provato sul suggerimento di alcuni lettori di marcos box in particolar modo di luca pass e devo dire che è davvero ottimo l'ho deciso che sarà la mia soluzione principale per il controllo remoto quindi addio team viewer e addio any desk baserò tutto su questo perché è molto semplice e immediato e offre anche cose in più perché oltre ad avere il controllo remoto del desktop vero e proprio offre anche alcuni strumenti tipo la possibilità di tramite interfaccia web di andare a stoppare i servizi i vari processi da riacchigliare ma anche la possibilità di esplorare direttamente i file system sui dei computer che noi andiamo a controllare e altre cosine quelle che sono davvero davvero utili e davvero diciamo così comode da avere davvero ogni giorno per per controllare a distanza i propri computer su marcos box ripeto trovate tutte le informazioni trovate una piccola video guida bene con questo concluso vedo che sono andato abbastanza lungo questa settimana sono 17 minuti ma c'erano tante cose che non avevo di cui non avevo parlato nelle settimane scorse quindi ho corpato un po' gli argomenti quindi puntata lunga per questo motivo lunga vita e prosperità a tutti quanti state uniti state forti non uscite fuori non cazzeggiate state per casa se potete e speriamo che tutto questo passi nel più breve tempo possibile ciao ciao ciao